Ciao a tutti, qui vi parlo il mini show di Samuel in un nuovissimo video oggi siamo con un mio amico, però lui non può parlare, si chiama Michael61 oggi saremo a fare una partita insieme io sono il Barcellona e lui è il Real Madrid ho già subito fuori gioco fuori gioco anche inoltre ok ragazzi ma dai in questa, dai in questa, dai in questa dai in questa dai senti senti eccola ecola ecola dai i ho ritaci i ho ritaci ora mbmè si niente da fare tipo e calar mal e calar mal e calar mal 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 12 12 12 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 in cui mi sono stagione come liana a mezzo e salio inizia 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 l'amore inizia 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 per lavorare inizia e dai 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 rag grazie grazie dai suarex 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 per 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 ma che fai? perchè ha fatto sta cagata? dio laghe ah ho giocato io vero eccola eccola oddio uuuu che palla che perfetta la palla all'ultimo 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 fuori gioco all'ultimo non scrip non voglio scripere all'ultimo 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 finisce il primo tempo poco fuori ho sbagliato a mostri gioco in francese stavo intendo in lingua però non vogliamo che mi devo sbagliare il gioco appunto ecco in lingua all'ultimo 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 è stavo stai nassie 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 tenta è bello bello no 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 ov la 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 suare 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 a giro su un incrocio se la vediamo adesso, andiamo a fare il cuore sotto al 7 suare stiamo andando il cavolo di mano, dai, ti devo sbaglio a tutti i passaggi attenzione bravo sempre per suare sempre messi sempre per suare dai, no, si è sbagliato oh, si rigore, rigore rigore, dai devo dire col suare attenti a che è in mezzo ma, cari in mezzo, ma, attenti tiro parata ah no dai uuu, ruzzami uuu, per me si, uuu, per me si, uuu, per me si uuu, per me si no all'ultimo all'ultimo secondo non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere perché no forza no suarex che devo credere perché sapevo che la prendevo come cuore il gioco vediamo che cuore il gioco che cuore il gioco uuu uuu dai uuu uuuu ma come è veribile dove la tirare prima poi non così forte cioè suarex 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 dai arrivi che cuore non ci posso credere senza che cuore non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere che sia un'amore perché non ci posso credere che si è orale si è orale non lo ha 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 stai orale oh dear la mia 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 calcio di malizia calcio di malizia ho messo il pezzo quadrato l'ho appicciato del tasto